Dopo questo incontro, un 3-0 contro Firenze, un primo set abbastanza facile, poi un po' di disattenzione, però alla fine un bel 3-0. Sì, era importante cominciare bene e cercare il nostro ritmo. Diciamo che l'abbiamo trovato su alcune situazioni d'attacco che mi sono piaciute molto, sia in velocità, sia dal punto di vista della scelta dei colpi, eccetera. Faccio fatica a valutare il contesto nella sua totalità perché effettivamente secondo il terzo set abbiamo commesso un po' di disattenzioni, un buon numero di disattenzioni. Non mi è piaciuto tanto che in muro difesa abbiamo subito di più l'avversario quando era in difficoltà che non quando aveva le condizioni migliori d'attacco. Va bene, non so quanto correlarlo alla facilità del primo set, secondo me è dovuta anche a una partenza molto buona nostra. E' un avversario che era un pochino più arrendevole all'inizio e poi ha cominciato a giocare una pallavola un po' migliore e quindi ci sono anche dei meriti in quello che hanno fatto gli altri. Tutto sommato, diciamo che per riprendere sono nettamente di più le cose positive e quindi andiamo avanti a lavorare. Pena rientrato con la sua esperienza in nazionale, cosa ci racconta di questo ottimo risultato che ha ottenuto? Ma niente, andare all'Olimpiadi era un sogno fin da bambino e quindi il fatto di essere riuscito a raggiungerlo è chiaramente una cosa emozionante che mi ha fatto veramente tanto piacere. Ma adesso dobbiamo pensare a quello che facciamo qua e a busto e tant'è che voglio ricollegare la tua domanda alla gratitudine che provo per chi mi ha permesso di collegare le due cose, chi mi ha sostituito in particolare, quindi il lavoro che è riuscito a fare Marco di nuovo in sostituzione in funzione della mia assenza. Quindi l'unica cosa che voglio dire adesso rispetto al lavoro della nazionale è grazie a Marco, grazie alla società che mi ha permesso di assentarmi per portare a termine questa cosa. E adesso arrivo a un bel generale intenso? Assolutamente, l'unica cosa che avevo nella testa quando ero via era l'importanza che avranno queste tre settimane su tutti i fronti, quindi cerchiamo di essere molto concentrati e di lavorare bene. Grazie mille, a te, grazie.